Cioè sono persone che hanno votato alcune contro la riforma costituzionale e adesso ne dichiarano ovviamente il sostegno a sparatratta, cioè c'è un'ipocrisia di fondo che è totale. Quello che viene ad essere evidente e inevitabilmente imbarazzante per il PD è il doppio pesismo, perché se da una parte c'è Renzi che quando deve candidarsi a fare segretario del partito dice pulizia, cancelliamo tutto, adesso invece c'è un Presidente del Consiglio dei Ministri che non prende parola, sta zitto facendo il segretario di partito e lasciando che i suoi assenati sostengano e salvino una componente fondamentale.